Ciao a tutti, sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su KenkashinTV. Il dolore, un concetto demonizzato nei nostri contesti sociali, secondo solo al pensiero del fatto che un giorno, prima o poi, dovremo morire. Se queste mie ultime parole ti hanno suscitato un movimento improvviso della mano in direzione dei tuoi presunti genitali scaccia-sfiga, allora puoi constatare in prima persona il potere dei tabù. E tabù oggi dire che il dolore, fisico e mentale, è indispensabile per la crescita dell'individuo. Oggi lo chiamiamo sacrificio, sforzo, dedizione e, con ogni altro genere di surrogato lessicale, pur di non pronunciare il termine tabù. Eppure il nostro primo sensei, il nostro primo maestro che ci insegna cosa evitare, cosa combattere e quanto siamo in grado di sopportare. Ci mette dinanzi a pulsioni nataliche che il mondo moderno tende a censurare, con tutte le nevrosi del caso. Insomma, ci mette di fronte a noi stessi. Nella marzialità, la volontà di ricercare sistemi non dolorosi, ma che soddisfino al tempo stesso la nostra voglia di imparare a combattere, cioè a difenderci, crea un effetto grottesco che, in molti, per salvaguardare il loro ego, sono disposti ad ignorare. A tutti piacerebbe diventare come Goku senza provare dolore, ma il nostro Goku non solo ha provato tantissimo dolore, sia fisico che mentale, durante il corso delle sue avventure, qualche volta ci ha persino lasciato le penne. Il tutto per migliorare se stesso. Ora noi non abbiamo le sfere del drago, e non abbiamo nemmeno la tempra di Saiyan. Dunque possiamo essere meno estremi, ma non possiamo al tempo stesso ignorare la valenza didattica del dolore. Il dolore nelle arti marziali ha, tra gli altri pregi, una funzione demolitrice delle illusioni e delle tendenze speculative che una pratica free pain può generare. Non è un caso che lo zen, così spesso abusato nel nostro ambiente, vede nella percossa un metodo per riportare al presente un allievo troppo avvezzo a ricercare un misticismo ingiustificatamente sofisticato per lenire i suoi turbamenti interiori. Insomma, vede nella mazzata un metodo per evitare saghe mentali. Di conseguenza impariamo a restare coi piedi per terra, a restare umili. Comprendiamo che un colpo serio fa male e, attraverso un salto empatico, non vorremmo che lo stesso tipo di dolore venisse provato da qualcun altro per causa altrui o anche nostra. Ci penseremo molte più volte prima di colpire qualcuno solo perché ci ha insultato la mamma. Siamo consci di cosa può provocare un colpo, specie se quel colpo viene dato da una persona allenata a colpire sul serio. Insomma, si comprendono da vicino dinamiche psicofisiche altrimenti ignorate. E cosa vogliamo dire dell'altruismo? Per far allenare un mio compagno spesso mi sottopongo ad un dolore fisico. Allo stesso modo lui si comporta di conseguenza con me, sviluppando un forte legame empatico di altruismo e amicizia. O ancora posso dirvi i vantaggi acquisiti in ambito di resistenza alle sofferenze e sviluppo dell'ottimismo. In uno scontro reale o metaforico con la vita noi siamo abituati ad incassare colpi, siamo abituati agli stress fisici e mentali. Ciò ci cambia la visione della vita e fa sì di sviluppare una mente più salda e in grado di affrontare problemi in maniera più fredda e lucida, dunque in un modo più distaccato ed efficace. La difficoltà non ci disorienta più, ma anzi c'è di stimolo. Tutto diventa allenamento. Concludendo vorrei dirvi che quando ci si allena in questa ottica si necessita di un buon maestro dotato di buon senso. Il fai da te e le saltazioni non portano nulla di buono. Ricordate che mettersi alla prova va bene, anche duramente, ma provare più dolore di quel che siamo in grado di reggere può portare a fratture esteriori ed interiori difficilmente sanabili. Bene amici e amiche di GenkashinTV, anche per oggi è tutto. Spero che questo episodio vi sia ritornato utile e che si sia chiarito un po' di più il concetto del dolore che sicuramente verrà approfondito nei prossimi episodi. Se il video vi è piaciuto vi raccomando di condividerlo coi vostri amici e di seguire la pagina Facebook GenkashinTV e anche su Instagram. Noi ci vediamo prossimamente e ciao! Grazie! 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 Grazie!